...che non solo si fece lui stesso vaccinare, ma fece vaccinare anche tutta la sua famiglia. Ritornato in Napoli, istitui il Comitato di Vaccinazione Pubblica, cioè permise a tutta la popolazione del Regno Polonico di vaccinarsi gratuitamente nei giorni di lunedì e giovedì. Mettite la radio, una colana sul mare e una nonna ti verai che non sai dove, e una donna ti verai non la sai te. Come Maria, la nonna ti verai, 60 anni, mi pare un albero, su massicci del pollio. Nobili, plebele, ricchi, poveri, clericali, atei, tutti aspirano ad una prossima restaurazione del Borbone. Conte Alessandro Bianco di Saint-Cheraud, capitano di Stato Maggiore, esercito piemontese. Conte Alessandro Bianco di Saint-Cheraud, capitano di Stato Maggiore, giure e mai, giure e mai, giure e mai, giure e mai, giure e mai! Capinando, fu certamente predicamato dal popolo del suo, ed è per tale ragione che a tutt'oggi risulta essere il sovranno non fu camminato della storia. Negazione di Dio fu definita dagli inglesi che tramavano contro il Regno, e il Re Bomba, la storica asserviglia ai portatori di Montesi. E questo, purtroppo, dura ancora oggi. I meridionali. I meridionali non dovranno mai essere più in grado di intraprendere. Volete sapere chi l'ha detto? Carlo Bombrini, senatore del Regno d'Italia e governatore della Banca d'Italia, dal 1861 al 1882. I meridionali non dovranno mai essere più in grado di intraprendere.